Ecco un piacere che quest'oggi ospitiamo una giovane 25enne cantautrice della città di Corridonia, Gretel. È il nome d'arte di Greta Palmieri, di cui è da poco uscito un videoclip del brano Soltanto tu. Grazie intanto Greta per aver accettato il nostro invito e per condividere con noi la tua esperienza. Grazie a te. Partiamo proprio dalle tue origini, perché tu sei nata in Lituania e poi sei stata adottata e sei arrivata qua in Italia. Sì, ho avuto questa fortuna, questo dono grandissimo di essere stata adottata da una famiglia italiana dove all'età di 10 anni sono venuta qua in Italia a Corridonia. E ti sei dedicata sin da subito allo studio del canto e di alcuni strumenti musicali? Sì, ho studiato il pianoforte durante la pandemia, più o meno mi sono avvicinata perché per un cantautore saper suonare uno strumento è molto serve, quindi poi successivamente andrà preso lo studio della chitarra, che è un altro strumento che sto studiando. Hai studiato da privatista canto e in particolare ti sei specializzata nel pop e nel jazz? Sì, diciamo per sperimentare vari generi musicali, per avere una cultura solida ho variato un po' di genere come il classico, poi il jazz. Il jazz l'ho scoperto attraverso una formazione ad Arcevia Jazz ad Ancona dove 24 ore su 24 durante una settimana intera abbiamo insieme ad altri ragazzi studiato, facevamo in qualche modo band intera e è stato bellissimo e da lì mi sono innamorata del jazz e l'ho studiato. Ora studio il canto pop diciamo nel livello cantautorato più o meno. Scrivi diversi brani tra cui appunto soltanto tu vuoi raccontarci come è nata, se l'hai scritta in un momento particolare? Soltanto tu nasci da un mio momento di malessere sia anteriore che esteriore ho voluto raccontare attraverso questo brano l'unicità della persona perché viviamo in una società dove corriamo, quindi c'è una frenesia, non riusciamo ad essere omologati attraverso un preciso target di persone e io stessa per la mia timidezza, il mio modo un po' introverso, spacciato diciamo che ho non riesco ad essere omologato in questa società dove vivo. Il brano appunto è un invito a tutte le ragazze, a tutte le persone che si sentono come me quindi non si sentono omologati e soltanto tu infatti hai riferito soltanto me come persona. Spero che sia d'aiuto anche tutte le persone che vivono la mia stessa situazione. Un video che è stato registrato proprio in pieno centro storico a Macerata? Sì a Vicolo Consalvi, infatti Vicolo Consalvi è stato realizzato dall'Accademia delle Belle Arti di Macerata, dai studenti dei ragazzi e con il mio amico Riccardo Caroda abbiamo registrato questo video, è stata un'esperienza unica e abbiamo messo al centro proprio la persona, quindi soltanto me. Diversi poi i brani che hai registrato prima di questo di cui ci parlavi, in versione in questo caso acustica. Sì, diciamo soltanto tu nasci proprio a livello di produzione, quindi non è proprio in acustico, però di solito faccio, diciamo in qualche modo nasce dal pianoforte e poi il producer che è Leonardo Coradetti ha realizzato tutto questo contorno all'interno di questo brano. Diversi gli stage, le masterclass e i corsi che hai frequentato, ma nel 2023 hai avuto la fortuna e il piacere di partecipare anche ad Una Voce per San Marino, che esperienza è stata? Unica, è stata un'esperienza di crescita perché comunque da una ragazza timida che faceva i concorsi canore così per passione, davanti a una tv di stato è stato un trampolino di lancio e sono grata di aver portato la mia musica e questo mio ultimo singolo, soltanto tu. C'è un momento della giornata in cui ti senti particolarmente ispirata e hai più voglia di scrivere? Beh, sempre, in realtà io ho tanto da raccontare, dovuto anche dal mio passato difficile per dieci anni, rinchiusa in una bolla, c'è stato dietro una sofferenza anche psicologica ben importante, ho tanto da raccontare e durante la giornata quando ho qualcosa da dire, prendo la penna e scrivo. Stai quindi lavorando ad altri brani? Sì, sì, prossimamente, ecco di recente, uscirà un altro singolo che presenterò sul programma di Fiorello, Viva e Viva Videobox, Voragine, che è il mio ultimo singolo che fra pochissimo uscirà. E ricordiamo appunto che proprio tra qualche giorno andrai a registrare a Roma tutto questo che poi verrà trasmesso prossimamente su Rai2. Un sogno nel cassetto Greta che sogni di realizzare da qui al futuro? Fare musica, cercare di trasmettere alle persone che mi ascoltano la verità, la mia perlomeno verità all'interno delle canzoni, di portare anche dei messaggi ben positivi ai giovani, ai ragazzi come me. Importante per realizzare tutto ciò il sostegno dei tuoi familiari? Assolutamente, sono grata alla mia famiglia perché mi danno un sostegno sia a livello psicologico che economico e sono grata. C'è un cantante che ammiri e con cui un giorno vorresti magari duettare? Beh, portare in vita uno dei artisti, cioè che i miei idoli sono Freddie Mercury Queen, non posso, però il mio sogno di duettare è con Laura Pausini che è una delle artisti a mio parere molto più internazionali e veramente ci sono cresciuta fin da bambina. Chi volesse seguirti può ascoltare il tuo brano su YouTube e poi seguire anche i tuoi vari canali social? Sì, sono più attiva su Instagram come Gretel, puntino in mezzo, music, trattino in basso, poi dappertutto come Gretel. Ti ringraziamo ovviamente per esserci venuta a trovare e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la trasmissione con Fiorello e per tutti i tuoi progetti futuri. Viva il lupo, grazie mille!